Tra tutti i derby è quello che ha i crismi della grande classica. È una stagione di partite sentite per Pallacanestrobiella, inserita in un girone dove sono presenti JB Monferrato, Torino e Cantù. Con i brianzoli i ricordi vanno agli anni ruggenti della Serie A, con Torino invece al primo periodo post-retrocessioni da due. Le strade di entrambe però, inutile dirlo, si sono separate per lungo tempo. Con Casale no, gli croci sono ormai dal 2011 un appuntamento almeno doppio a cadenza stagionale. Domenica il derby tutto rosso-blu tornerà in scena al forum. La conferma è arrivata proprio nella mattinata di oggi, quando la JB Monferrato ha comunicato che dopo il giro di tamponi tutto il gruppo squadra è risultato negativo e ha potuto riprendere gli allenamenti. I Monferrini avevano affrontato il solito, per questi tempi, focolaio interno, tutti apparentemente sani e senza sintomi, ma in ostaggio dei tamponi che dicevano positivi. Dopo aver battuto Orzi in via più che rimaneggiata, la compagine di coach Valentini si era vista costretta a chiedere il rinvio della partita di domenica contro Cantù. Gli atleti positivi avevano superato nei giorni precedenti la soglia tollerata dai protocolli. In casa biellese è cambiato poco. C'è da preparare una partita delicata contro un avversario di valore, che vanta nella roster i talenti cristallini di Sarto e Ocheche. All'andata, sugli spalti del Palla Ferrari, si era seduto anche il CT della Nazionale Sacchetti, sceso in Monferrato per poterli osservare da vicino. A Biella intanto si lavora per rendere il forum il teatro delle grandi occasioni. Pandemia, restrizioni, capienza limitata, tutti problemi oggettivi, ma l'affluenza al palazzetto quest'anno non è decisamente granché. L'impatto visivo non è quello ideale per vincere un derby. La società Rosso Blu ha promosso quindi un'iniziativa per cui ogni abbonato potrà acquistare, al costo di 5 euro, un biglietto aggiuntivo per portare un amico al forum, in ogni settore escluso il parter rosso. Raddoppiare l'affluenza, l'obiettivo è palese. La promozione parte oggi ed è bene ricordare che, come da disposizioni, domenica la biglietteria resterà chiusa, i dettagli sul sito della società. Mai come domenica, Pollone e Compagni potrebbero aver bisogno di vicinanza e calore.